Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato alla crema. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 8 ore di raffreddamento in freezer. Gli ingredienti sono panna, zucchero, tuorli e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna, i tuorli, la vanillina, potete anche utilizzare i semi della bacca di vaniglia se gradite, e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 85 gradi, velocità 4. Riponiamolo in un contenitore basso e largo. Riponiamolo in un congelatore per almeno 8 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il gelato dal congelatore, adesso lo taglieremo a quadrotti. Mettiamo adesso il gelato all'interno del boccale. e lo facciamo mantecare per 15 secondi a velocità 6, spatolando. Il gelato è pronto, serviamolo. gelato alla crema. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!